Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse, seguimi, ed egli alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, Perché il vostro Maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendogli uditi, disse, Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Grazie a tutti.